Procede il piano dell'amministrazione comunale sull'estensione della differenziata e dopo Scampia e la volta di Posillipo dove a partire dal 28 novembre saranno distribuiti 30.000 kit per la raccolta porta a porta. Ad annunciarlo il vice sindaco Tommaso Sodano intervenuto in consiglio comunale per fare il punto sulla questione dei rifiuti in città. Si parte dunque dall'obiettivo differenziata. Il comune conta di raggiungere entro fine anno 240.000 abitanti e di incrementare per aprile 2012 la raccolta di 10 punti percentuali. Sono stati inoltre prorogati al 31 marzo prossimo i contratti con le due società dette alla pulizia delle strade cittadine al fine di evitare emergenze nel periodo natalizio durante il quale partiranno anche attività di raccolta straordinaria dei cartoni. Nostro obiettivo è arrivare a superare 300.000 abitanti. Arriveremo invece a circa 240.000 perché sono andate a deserto e due gare per fornire mezzi, attrezzature e bidoncini per i quartieri. Abbiamo completato Scampia e il 28 novembre parte Posillipo. Speriamo la settimana prossima di poter annunciare anche la data della partenza della nave. Intanto in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, in programma dal 19 al 26 novembre, l'amministrazione si appresta a promuovere una serie di iniziative volte alla riduzione degli imballaggi. Ognuno di noi è abituato a vedere prodotti che sono confezionati già all'inizio con imballaggi inutili che possono tranquillamente essere eliminati. Ci sono campagne che hanno il valore educativo ma anche il valore effettivo di raggiungere obiettivi di riduzione degli imballaggi. La prossima settimana il vice sindaco Sodano incontrerà il nuovo ministro dell'ambiente per confermare lo stanziamento di 5 milioni di euro necessari ad incrementare la differenziata fino a 500.000 abitanti e per ricevere risposte sullo stato della bonifica di Bagnoli da cui dipende il futuro della Coppa America.